Sono il dottore Riberto Favilli che da oltre 40 anni si è dedicato al dolore e alle cure palliative ed è il responsabile scientifico dell'associazione di Narni per la lotta contro il carico. Ogni anno abbiamo pensato di fare un memoriale in onore di Ida Proietti, una nostra paziente. Quest'anno, nell'undicesimo anno, abbiamo pensato di trattare la malattia di Alzheimer e la demenza senile perché purtroppo abbiamo nell'ambito del nostro territorio un numero di malati sempre più grandi che hanno questa patologia. Gli scopi sono due, uno di aggiornare i medici di famiglia su questa malattia perché chiaramente saranno presenti dei relatori ad altissimo livello e il secondo di venire incontro alle famiglie che soffrono di questa patologia e che spesso sono abbandonate. L'organizzazione dell'associazione di Narni per la lotta contro il cancro che sono oltre i 40 anni che è adedita ad assistere malati terminali. Vi aspettiamo tutti a Narni, a San Domenico per il 18 settembre all'undicesimo memoriale della signora Ida Proietti organizzato dall'associazione di Narni per la lotta contro il cancro.